Intenzione di voto di Index Research questa settimana. La Lega è al 31,1% più 0,2% rispetto alla scorsa settimana. Il Partito Democratico 20,2% è più 0,2%. Il Movimento 5 Stelle scende ancora di uno 0,8% al 14,2%. Cartello successivo. Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni all'11,6% guadagnano 0,3%. Fermo al 5,9% Forza Italia e Italia Viva fermo al 4,1%. Cartello successivo. Allora, Azione è al 2,3%. Di Calenda ai Verdi al 2%. Più Europa all'1,9%. Cambiamo di Tote all'1%. Gli indecisi sono al 36,5%. Questa è la galassia, diciamo così, di sinistra. Andiamo ai cartelli successivi che sono il gradimento dei leader da parte degli italiani. Conte ancora in testa al 37%, seguito da Salvini al 36%, Meloni 31%, Zingaretti 24%, Di Battista 18%, Di Maio 13%, Berlusconi 13%, Renzi 12%. E poi due sondaggi che riguardano Salvini e Meloni, cioè i due esponenti della destra. Tra Meloni e Salvini. Chi ha una migliore classe di dirigenti del Stato Chiesa degli italiani? Per il 55,8% ce l'ha Salvini, cioè la Lega. Per il 31,4% ce l'ha la Meloni. Nessuno per il 12,8%. Cartello successivo. Tra Meloni e Salvini. Chi vuole di più uscire dall'euro? Salvini per il 30,6%. Meloni per il 27,9%. Non lo sa. Anzi, nessuno di loro due il 41,5%.